Ben trovati in questo nuovo video, come vedete non è il solito posto, bensì questo è il mio garage dove ho la macchina Bene, comunque detto ciò, vi presento adesso gara 1 e qualifiche, purtroppo le qualifiche non le ho registrate Mio errore, avevo impostato la telecamera in timelapse quindi non ha ripreso praticamente nulla Vi dico che comunque partivo quinto, semplicemente perché sono stato terzo per un periodo della qualifica Però purtroppo ad un certo punto si è spezzato il mozzo anteriore destro e niente, sono andato a finire quinto Se non siete ancora iscritti al canale, se siete nuovi sul mio canale, vi invito ad iscrivervi È semplicissimo, trovate il tastino in basso a destra nello schermo In più, in questo video ho provato a fare una introduzione, una intro, chiamiamola così Solo che fa schifo Se qualcuno di voi dovesse intendersi ed essere studiato nel fare montaggi E magari capisce qualcosa per fare un video intro Magari se mi contatta non mi dispiace 3, 2, 1, drop it Tra, basta il tempo? Eh? Riscorre il tempo? Sì, eh capisci Sì Un po' divertimento È un po' divertimento O Grazie per la visione 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 Grazie per la visione